Non hai sentito quello che ho detto? Sparisci dalla mia stanza, avanti, fuori di qui! Conte minimo, fuori! Augurio! Allora è vero, sei stata ipnotizzata. Bene. Cosa vuoi che faccia? Come, come, cosa voglio? Tu farai quello che ti dico? Tu dai gli ordini, io li eseguo. No, 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 non è possibile, non può essere, vediamo, pirattati in orecchio. L'altro, il naso, canta qualcosa. Tra mattino campanaro, dormi tu, dormi tu, suona le campane, suona le campane, din-don-don. È vero, è vero, è vero, stai facendo tutto quello che ti dico. Io sono qui per ubbidire, cos'altro devo fare? Desidero che mi baci. No, no, non posso, non posso. No, non mi baciare, non mi baciare, non mi baciare, non mi posso approfittare di te in questa situazione, perciò resta qui in camera e io torno tra poco. Però una domanda te la posso fare, perché questa è una cosa diversa. Di chi sei innamorata? Sono innamorata di... Di chi sei innamorata? Grazie.